Lo siamo noi? La famiglia! Hey, come state? Nel video di oggi, Leone e Vittoria vanno al museo insieme al cuginetto Edo, nonna Marina e zia Francesca. Qui, tutti e tre, si divertono un mondo a giocare e scherzare. In mattinata, invece, Chiara ci mostra il suo look. Vi lascio il video. Buona visione! Sì, è tipo questa parte! Non c'è il nero! I cuginetti! Non c'è più il nero! Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao!